Bella corsa questa, una dei migliori del giorno. La partenza è subito valida, con Replay e K che cerca di assumere il comando, ha sbagliato Roxana Dehmar, è partita velocissima dal secondo nastro Ronda degli Olivi, così come Raggio di Luce e Rolly Mill, tutti in caccia di Replay e K che è battistrada, sbaglia Raggio di Luce nel tentativo di tagliare fuori Rolly Mill. Dopo i primi 200 di gara con Ronda degli Olivi che adesso anticipa Rolly Mill, Zanca guarda un po' tutti e due, non so se vorrà mandare via, Ronda degli Olivi però insiste e adesso dopo i primi 300 svelti, 500 svelti, passa, si va da 1,15 e 2. Ronda degli Olivi con la partenza volante, è riuscita ad andare al comando delle operazioni, nonostante i 25 metri di penalità e adesso è in vantaggio su Replay e K, poi terzi in corda Rolly Mill, ruba cuori H e chiude il numero 6, Rosellina. Certamente ha fatto la differenza, la partenza veloce di Ronda degli Olivi che adesso dopo i primi 1100 gradua va da 16,6 questo paletto, quindi si va molto piano. All'esterno ruba cuori H che nonostante non si aspettasse uno schema così sposta a largo e cerca di andare ad affiancare il battistrada che dopo i primi 1100 va da 1,18 e 3, sposta anche Rosellina. La corsa è venuta tattica perché a comando Ronda degli Olivi non ha nessuno a pressare, adesso ruba cuori H che cerca di lavorare ai fianchi, Rosellina in schiena, il parziale sull'addirittura posto delle tribune è in leggera spinta, 15 e mezzo per Ronda degli Olivi. Adesso gira a largo più convinto ruba cuori H, Rosellina è incollata alla schiena, Replay e K sembra avere del buono così come Rolly Mill ma nessuno può accennare la terza ruota, 15 e 3 però per questo paletto. Ronda degli Olivi quando mancano 600, adesso deve rintuzzare ruba cuori H che è più incisivo e la affianca completamente, la frontale fa vedere i due proprio testa a testa, infatti 15 e 2 per questo paletto. Ronda e ruba cuori che sono sulla stessa linea, di dentro sbaglia improvvisamente Replay e K, Ronda al comando, Replay e K di galoppo, ruba cuori H che sbanda un po' su Rosellina che non riesce a trovare la corsia, ne approfitta Rolli Mill ma intanto Ronda degli Olivi al momento se ne è andata dopo la curva in 15 e 1 e Ronda degli Olivi l'ha vinta in partenza e va a concludere facile, facile, facile a quota di 11 e 92 mentre per il secondo è probabilmente ancora ruba cuori H sul numero 5 di Rolli Mill. 35 e 34, 800 metri intermedi invece molto lenti, questi sono Valsi la vittoria a Ronda degli Olivi che poi ha staccato nel finale, vinta la corsa in partenza. 37, 1, 5, 1, 17 e 4 Ronda degli Olivi